Con il progetto Pleniglia, l'asle di Pescara ed il comune di Pianella guardano al futuro mettendo in campo un programma socio-sanitario innovativo che vedrà importanti novità sia a livello infrastrutturale sia di servizi erogati. Punto cardine di questo progetto, l'attuale sede del distretto sanitario in via Aldo Moro che presenta diverse criticità e per questo, anche grazie alla collaborazione con l'assessore alla sanità Verri, l'amministrazione comunale di Pianella ha pensato di trasferire la sede presso l'ex sede del giudice di pace nei pressi del terminal bus e della caserma dei carabinieri. Inoltre ci saranno altre novità, così come ci spiega il sindaco Sandro Marinelli. Da una paventata chiusura invece si è trovato il modo, ragionando e lavorando a 360 gradi, grazie anche al contributo che l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verri ha voluto fornire in questo caso, per trovare una soluzione che sposasse quella che è la politica futura dei servizi socio-sanitari sui nostri territori da qui in avanti. E quindi si dà seguito a quello che era già un indirizzo precedente per quanto riguarda l'estensione del 118 H24 sul nostro territorio. Aumentiamo anche la capacità di fornire risposte dal punto di vista amministrativo. Oggi il disagio di un utente che deve superare tantissimi ostacoli per poter ottenere un'esenzione, la scelta irrevoca del medico e quant'altro. Riusciamo con questa riorganizzazione dei servizi a risolvere tutti i problemi amministrativi in loco. Completare la parte dei servizi amministrativi e l'implementazione del 118 H24 in tempi relativamente brevi, interessando il piano terra della nuova sede. E invece il progetto di centro di urno per anziani non autosufficienti che dovrebbe interessare il piano superiore necessita ovviamente di adeguamenti infrastrutturali più importanti che potrebbero richiedere una tempistica più lunga. Grazie a tutti.